Prego Michele Allora, ciao Mattiasi Volevo chiedere un po' per quanto riguarda anche in previsione del derby di domenica è un po' come ci hanno giocato in carriera dopo a FU, no? Dico, guarda, cosa c'è? Più o meno ha quello stesso valore in questa appesa volta Come lo stai direi tanto qua, anche se sei qui da fuoco Quello che hanno parlato magari sempre di un giro in uno scogliatorio che ci dà tipo si riesce a dire a pensare Ah, appunto quello che ho sentito in giro e le voci che escono e che è molto sentito poi magari più di quelle del nord di questi qua al sud sono più sentiti e c'è una passione qua che dobbiamo fare di tutto per dargli la vittoria a questi tifosi Mattiasi c'era curiosità di vederti in campo dal primo minuto mi fa fare minuti su minuti e mi sono arrivato qui a Castellammare anche per capire un attimino che appunto sei da un po' di statistico su un gioco di parole e poi oggi c'è stato anche questo pizzico di fortuna un po' che ti ha aiutato su poco è chiaro che fisicamente ancora non sono al massimo quello lo sappiamo tutti e non è che sto qua a dire che sto bene però visto che il mister comunque mi dà fiducia mi ha fatto giocare dal primo minuto mi fa fare minuti su minuti è chiaro che per me è un vantaggio quindi sarò pronto prima che pensavo quando sono arrivato qua pensavo che il mister mi dava più tempo per mettermi in campo e è stato bravo perché anche oggi ho avuto questa fortuna di far gol che non era voluto e vuol dire che per me la prendo come un po' più è una cosa che mi dice tutte le cose negate sono finite e andiamo avanti con solo il positivo posso chiederti che cosa ti hanno detto quando sei arrivato a Castellammare il nostro obiettivo è? puntini, puntini? no, l'obiettivo la verità è che non me l'avevo dato loro chiaramente hanno fatto gli acquisti per andare avanti e hanno sempre detto noi andiamo avanti andiamo avanti finchè vinciamo perché dobbiamo dire che vogliamo salire facciamo il nostro percorso che stiamo facendo senza farci troppe domande sta andando bene grazie